Ministro Patrizio Bianchi, si parla qui di innovazione nella didattica per i docenti e nello stesso tempo di valorizzazione della professione del docente. È un connubio fattibile? È un connubio necessario. Noi dobbiamo valorizzare al massimo il ruolo del docente, le sue competenze, le sue conoscenze, ma anche il ruolo umano che ha il docente. Questo richiede ovviamente un investimento in formazione. Sono cose che sono dentro al PNRR e su cui stiamo lavorando insieme con tutti.